La strada per l'ottantesimo scudetto è tracciata fuori il calendario della Serie A1 Tigotà della Lega Volle Femminile di Pallavò di Serie A1. Andiamo a vedere quindi i calendari. Si parte il weekend del 5-6 ottobre, ultima giornata prevista sabato 1 marzo. L'attesa è finita. Ieri, giovedì 25 luglio, le 14 squadre della Serie A1 Tigotà hanno scoperto il percorso che le condurrà verso la conquista dell'ottantesimo scudetto con l'uscita del calendario ufficiale della stagione 2024-2025. Fischio d'inizio fissato nel weekend del 5-6 ottobre per 26 giornate in 5 mesi con la conclusione fissata sabato 1 marzo. Le migliori 8 accederanno come di consueto ai playoff scudetto con i quarti al meglio delle tre gatti e semifinali e finali al meglio delle cinque. Andiamo però a vedere le partite più interessanti e poi il calendario completo. Alla prima giornata abbiamo l'esordio delle due neopromosse. Una in casa, cioè Perugia contro Volle e Bergamo il 6 ottobre 2024 e l'altra invece dal Massos che andrà a Roma per giocare il suo esordio nella massima serie. Nella seconda giornata, cioè il 13 ottobre 2024, avremo il Bisonte Firenze che affronta Scandici, quindi il primo derby. La terza giornata invece ci sarà il derby piemontese, quello tra Pinerolo e Cuneo. Alla sesta giornata iniziano a scendere in campo i pesi massimi, cioè il 3 novembre ci sarà il primo scontro diretto, Prosecco-Docchi-Moco-Conegliano che ospiterà la Savino del Bene Scandici. Alla nona giornata invece avremo Vero Volle in Milano il 24 novembre 2024 contro la Prosecco-Docchi-Moco-Conegliano. Infine si finisce col botto, cioè il primo dicembre, l'8 dicembre e il 15 dicembre, rispettivamente la decima, la dodicesima e la tredicesima giornata, avremo in ordine Prosecco-Docchi-Moco-Conegliano contro Igor Gorgonzola-Novara, Savino del Bene Scandici contro Vero Volle Milano e Igor Gorgonzola-Novara contro Savino del Bene Scandici. Delle partite sicuramente da non perdere, che faranno appassionare tutti i tifosi. Vi invito adesso a guardare il calendario completo della Serie A di Gota di Pallavoro. Se volete, sotto troverete i capitoli e potete schippare giornata per giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, siamo arrivati in fondo a questo video. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo. Ciao!